musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi della teoria ufficiale ultima di quello che dovremmo aspettarci nella season numero 6 voglio ringraziare ragazzi l'utente alla deriva drift alla deriva che ha studiato tutto quello che è stato presentato nella season numero 5 ed è arrivato veramente ad una conclusione interessantissima ed incredibile quindi ragazzi mettetevi comodi lasciate un bel like seguitelo su instagram e mi raccomando godetevi la storia tutto quello che è l'inizio di questa storia è proprio la runa che era presente che è tuttora presente sulla maschera della skin alla deriva appunto è una runa non è un disegno ragazzi e questa runa non è altro che la rappresentazione diversa della runa inguaz che in poche parole significa dio ingwi uno dei tanti nomi del dio freir l'avevamo già sentito un bel po di settimane fa praticamente ingwi, ingwin, ingwain, ingwin sono tutti dei nomi che sono legati all'antico teonimo ing e che sembrano davvero essere tutti associati al vecchio nome del dio freir in poche parole il signore di tutti degli dei ma chi era appunto questo dio freir? praticamente freir era un'antica divinità norrena che era capace di controllare il sole, la pioggia, i temporali e i campi questi poteri però lo misero contro un'altra divinità, Sutr, poi ne parleremo più avanti nel Ragnarok prima di tutto però ragazzi dobbiamo dire che cos'è il Ragnarok praticamente con il termine Ragnarok vogliamo intendere la battaglia finale tra le forze della luce e dell'ordine e quelle delle tenebre e del caos quindi in poche parole il Ragnarok non è una divinità ma il suo vero significato è proprio il crepuscolo degli dei quindi in poche parole con Ragnarok la Epic ci annuncia che gli dei stanno arrivando freir comunque su Fortnite viene rappresentato dalla skin alla deriva per il suo simbolo che ha un piume come vi ho detto poco fa sulla maschera e per i fulmini che si possono sbloccare nello stadio finale appunto di questa skin ma andiamo anche a parlare di Sutr Sutr praticamente era il capo dei giganti del fuoco la leggenda narra che proveniva da Musu Pelheimr Musu Pelheimr che sarebbe in traduzione dal norreno terra delle fiamme è chiamata anche Muspel ed è il regno del fuoco nella mitologia norrena è la dimora ragazzi dei giganti del fuoco chiamati anche figli di Muspel quindi come vi avevamo detto poco fa il nome della city e del loro capo che è guarda caso Surtr è costituito da puro fuoco ragazzi ed è in opposizione alla terra del nord che si chiama Nifleimr che è ovviamente il ghiaccio guarda caso la parte di destra della mappa il deserto è terra bruciata la parte di sinistra è dove c'è la neve quella dei vichinghi i due regni nella mitologia si incontrarono e crearono l'acqua dalla fusione del ghiaccio nel Jannungagap che cos'è ragazzi il Jannungagap ve lo dico più tardi ragazzi è l'abisso ve lo dico subito tradotto vuol dire il varco spalancato aia praticamente è l'abisso cosmico che esisteva prima della creazione e come ci dice il ghiaccio ad un certo punto si formarono due regioni alle estremità del Jannungagap a nord c'era il gelato Nifleimr da ridere perché ho già in mente non il gelato che si mangia la terra gelato a sud invece c'era l'insopportabile calore del Maspelzreim che nomi però che ci hanno da questo ragazzi possiamo capire che la mappa di Fortnite verrà divisa in due parti ben separate e guarda caso ragazzi il lago è più o meno al centro della mappa ma parliamo ragazzi del Ragnarok giunto il Ragnarok quindi il combattimento finale ogni divinità si scontrerà con la sua Nemesi e nell'ultimo combattimento le due divinità si annientarono a vicenda Surtr una volta che ebbe annientato il dio Freyr però diede fuoco al mondo con la sua spada infuocata in modo da consumarlo totalmente ma per l'umanità ragazzi c'era ancora una speranza di infatti l'ultima coppia di umani si rifugiò in una foresta quella ragazzi che potrebbe essere Bosco Blaterante i due umani che si rifugiarono riuscirono a ripopolare la terra e la portarono all'età dell'oro il periodo praticamente in cui si svilupparono le civiltà italiane e latine ma attenzione ragazzi perché non è tutto d'infatti durante il Ragnarok accadono due cose stranissime che confermarono due teorie che stanno girando sul web in questi giorni la prima ragazzi è quella secondo la quale il villaggio vichingo sparirà perché questo combattimento finale in poche parole conferma la scomparsa del villaggio perché cercando le notizie su questo combattimento sono stati trovati una serie di eventi e di duelli tra le divinità e vedrete ragazzi che quello che si dice è la partenza di una nave vichinga ve lo dico fra poco ragazzi il problema ragazzi è che tra le creature del caos che fecero questi duelli e quindi che attaccarono il mondo c'è un enorme serpente mostruoso che emerge dalle profondità dell'acqua si parla anche ovviamente ragazzi della nave Nagelfar ciò che dicono i testi testuali parole sono le creature del caos attaccheranno il mondo Fenrir il lupo verrà liberato dalla sua catena mentre il miago Zarorm emergerà dalle profondità delle acque la nave Nagelfar leverà le ancore per trasportare le potenze della distruzione alla battaglia guidate da Hel al timone ci sarà il dio Loki in poche parole ragazzi questa nave leva le ancore e se ne va e guarda caso nel villaggio vichingo c'è proprio una nave in bilico pronta per la partenza parliamo un attimo ragazzi però anche del mostro del lago come vi ho detto poco fa tra le creature del caos che attaccarono il mondo c'è appunto questo mostruoso serpente che sbucherà dal profondo dell'acqua del lago ovviamente come è scritto nelle scritture il problema ragazzi è che vedremo qualcosa muoversi sotto il lago e la cosa preoccupante è che c'è la possibilità che questo mostro attaccherà tutti i giocatori che si avvicineranno nella zona del lago le conclusioni sono che il tema della prossima season ragazzi sarà ovviamente la battaglia tra la luce e l'oscurità e come abbiamo anche visto nella schermata di caricamento della settimana numero 10 c'è proprio dentro il cubo una parte malvagia della skin del bombaron lucente inoltre ragazzi sembra vero che come tema arriveranno anche le divinità ovviamente ragazzi tutto questo è una supposizione ma secondo me la teoria di questo utente è veramente azzeccata beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video spero lo condividiate con tutti i vostri amici mi raccomando un bel pollicione in su ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie a tutti.